Ciao sono Golkenji e oggi siamo su Planetside 2 Allora Vedo che siamo in allerta Cosa dobbiamo fare? Allora, con questa difendi tutte e tre le amp station di Esamir Ah, ok, ne abbiamo una a testa Vediamo in questi dieci minuti di... Di vedere un po' Allora, l'amp station è qua Le altre Una è qua che non la prenderemo mai E l'altra è qua che non la prenderemo mai Ma cerchiamo di Cercare, c'è una squadra, ok E andiamo subito Lì Subito, subito Andiamo un po' Oh, oh, ok, ok, qua c'è un po' di... Perché non mi muovo? Ok, perfetto Allora, abbiamo un car armato là Qua cosa c'è? Oh, all'asca qua Qua sparano, sparano, sparano Allora, qua è il drink Drink C'è qualcuno? No Ok Qua c'è gente che vola? Com'è possibile? Qua c'è qualcosa che non si è ancora caricato sicuro Perché volava Quell'uomo Quell'uomo volava Ma qua non c'è niente Allora Vediamo un po' Questo cos'è Posso fotterla? No Mi sedevo dietro Va bene Non c'è merito per entrare Allora, vediamo un po' Se riusciamo a entrare da qualche parte Ok 18 Sì Questa qua va tranquilla Molto probabilmente chiederò di nuovo un passaggio Però Non trovo un'entrata Ok, questa va Perfetto Arrivo troppo tardi ma Ok Gli altri sono tutti là? Ciao amici Ciao Ok No ma Mi ho appena fatto il giro No, non è giusto Qua c'è il mio Caposquadra Ok, no ma non c'è più bisogno Tutti che se ne vanno Un passaggio Un passaggio come sempre Ben accetto Allora Questo non me lo può dare Proviamo a farlo a piedi Eh, non sale il cararmazzo Penso di salire io Io salgo Le leggi della fisica Allora Qua c'è un po' di gente Tra 700 metri Vediamo qua Ci troviamo Davanti Oh Che bella base Che bella base Qua c'è un aereo Deve fare attenzione Che va giù Oh Yeah, yeah Lo prendo, lo prendo Questa volta Ok, lui Troppo lontano Dannazione Ah, ci pensano già gli altri Ok, dai che lo prendo Lo prendo, lo prendo Vai, vai, vai Eh, l'ho toccato Ma non basta E si è allontanato troppo Pure Oh, ok Però mi ha dato un po' di Di risorse Allora Qua a vedere C'è un bel campo di battaglia Quindi meglio stare Un po' attenti Allora Vedo dei cararmati E questo è male Però vedo che ce ne sono Io quanti siamo Quanti siamo? Eh, se quando c'è l'allerta Sta proprio tranquillo Che il server È pieno Almeno la mappa È piena Allora Ehi, siamo un time pace Attenzione 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 Che siamo da soli C'è un cararmato qua Ma Allora Cerchiamo di non morire Allora Questo qua è per la Distanza corta Quindi Non si vede Qua io ci lascio le penne Lo so già Allora Vediamo un po' Se posso fare qualcosa Con l'anciarazzi Se posso prendere qualcosa No Questo qua dovremmo prenderla Abbastanza facilmente Se guarda quanti siamo Guarda in quanti siamo Hop Allora Andiamo giù Meglio stare tutti assieme Vediamo se riusciamo a prendere A Qua ci sono I cararmati nemici Ah ok Ah è preso Impossibile catturare a questo punto Il tuo impero non possiede Una regione collegata al punto No No Vediamo un po' Noi siamo Qua Poi la regione ce l'abbiamo Com'è possibile Là c'è qualcosa che non va Allora Vediamo se Possiamo metterci un C4 Le Sotto Senza farci vedere Naturalmente Ah l'hanno già visto L'hanno già visto Eh nooo Ma che cattivi Ok Però il punto Non riusciamo a prenderlo Allora Aspettate un attimo Saliamo là Allora Così No qua No qua Nessuna parte Stupendo Sempre così No Mi staccano Corri 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 Ok Sentimenti pure lagare Allora Granata Allora Allora Andiamo un po' Ok Andiamo Bomba 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 Tu Non puoi Non puoi Passare La bomba La bomba La bomba La bomba Qua no Bisogna fare Attenzione Vai che lo prendiamo Uh Yeah Proprio Preso Preso in pieno Cosa cavolo vuoi fare Oh signore No 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 Scherzavo Però è strano Che non riusciamo a prendere Questo punto A Vediamo sulla mappa Se possiamo fare Qualcos'altro Allora noi siamo lì Però mi dice Che ci dice Che non possiamo Allora andiamo qua Dove ci dice lui Dove c'è anche Il nostro caposquadra Vediamo Aha Ce la stanno prendendo Eh Però Non dovrebbero farcela Qua c'è qualcosa Che esplode Perché laghi Perché laghi Dimmi perché laghi Fermati No 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 Fermati Fermati Va bene E dai E non lagare Porca Dai su Allora Vediamo un po' A, B e C B e C A e B Ah ok Tranquilli qua Ok Allora facciamo così Mappa Vediamo Azione istantanea Dove ci porta Ah in un'altra cosa No La stessa Ma andiamo 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 Un po' di casino Un po' di casino Vediamo un po' di casino Allora Cerchiamo di andare Un po' in periferia Visto che non è nostra Ok Oh mio dio Quanti diavolo sono Dai se riesco vi faccio Fare un giro Sull'elicottero Oggi Sull'elicottero Aereo No questo qua è ancora Un posto Però Finito l'allarme Ok L'allarme è finito Pareggio Ah si Abbiamo preso una testa E va bene così Allora Si però guarda qua Quanti diavolo sono Dai che spara un po' Scusa Quanto manca Dovrei andare dove 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 Prenderli Prendevo anch'io qualcosa Qua c'è un bel Sandler Che è chi spara Siamo in troppi Qua sparano Muzzo Vediamo se riesco a prendermi Dove andiamo a farmi tutto il giro Porca vacca Scusa Grazie Cosa Cosa Che cosa Allora Siamo dentro o no? Andiamo a prendere un cararmato pure io Ah ma c'è gente qua Oh Ho sbagliato Ho sbagliato Ok Ah ma Oh 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 Qualcuno che mi curi? Non c'è? Ai 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 Cerchiamo di entrare di qua Così Ah ma c'è qualcuno qua Dai che Devono uscire adesso Oh Dai che ho visto un aereo Andiamo sull'aereo Un aereo è sceso Un aereo è sceso Un aereo è sceso Mio 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 Non andare via Non andare via Oh Non andare via Andiamo No Questa Arma qua non mi piace Andiamo qua Cosa abbiamo qua? No Non ho l'arma così Allora stiamo così Via Verso l'infinito E oltre Oltre Oh l'aurora Boreale Ecco il pianeta Non so Quale sia ma Non me ne prega niente Ne beccassi uno Di culo Oh è tutta da prendere questa Ah ma c'era appena presa La Repubblica Terrestre Ha conquistato la struttura Vattene 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 Che Ci fanno fuori Vattene Ci fanno fuori Ricarica Qualcuno mi dice che Potremmo anche schiattare E sono ancora vivo Allora vediamo cosa fanno gli altri Allora mappa Ah ok Sono sempre là Dispiegamento squadra Prendiamo Prendiamo ancora questa E poi Terminiamo l'episodio Calma 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 Ah è già nostra Stupenda Bene Difesa Guarda solo da Da quelli che arrivano Dovremmo essere a posto Sì No 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 Sì 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 ho visto 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 Arriva Allora vediamo un po' E là Guarda là Eh no 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 Tu non mi sfuggi Tu non mi sfuggi Non ti nascondere Vaffan bagno Vaffan bagno Uno di voi Prima di chiudere L'episodio Voglio distruggerlo Oh signora Posso fare male? Oh yeah Uh uh Dai che voglio uccidervi Dai dai che ne arrivo da dietro Dai che ne arrivo da dietro Fermati Fermati Allora ok Va bene Il nostro l'abbiamo fatto Quindi Prima che mi ammazzino Chi è che mi spara? No Ok Visto che mi hanno ammazzato Per questo episodio è tutto Commentate Iscrivetevi Un bel mi piace E al prossimo episodio Ciao Ciao